Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque il giorno dell'epifania, le Juventus Women ci fanno un bel regalo e nella calza trovano una vittoria per 2 a 0 contro il Chievo Verona Valpo ricordiamo che l'anno scorso era Fimauto Valpolicella, quest'anno ha cambiato completamente nome in Chievo Verona Valpo quindi a livello statistico è la prima volta che la Juve batte il Chievo Verona Valpo a casa sua che dire, la partita che non era proprio facile, intanto partivi con molte assenze e già quando ti mancano molte giocatrici non è mai facile anche a livello mentale quando cominci a cambiare tante giocatrici, ma anche nel maschile succede quando fai tanto turnover vedi la squadra che comincia non a calare ma a avere un po' di sicurezza in meno ma è normale che sia così, no? quindi devo essere sincero, il primo tempo è difficile anche perché il Chievo, bisogna darne atto, ha fatto un partitone in più se è fatta male e salvai, quindi ti sei trovato a giocare con tre terzine e una centrale quindi assolutamente non proprio una cosa facile detto questo, detto questo c'è da dire che la Juventus ha fatto veramente una gran partita poi nel secondo tempo è venuta fuori a me non è dispiaciuto neanche il primo tempo considerando appunto la partita che ha fatto il Chievo perché c'è anche da dare i meriti agli avversari qui non è che si può sempre aspettarsi dalla tua squadra fuochi e fiamme c'è di mezzo anche agli avversari che non è sempre facile affrontarli cioè calcolando poi che stiamo parlando di una squadra che ha bisogno di punti ma insomma direi che c'è assolutamente, assolutamente da fare i complimenti al Chievo per la partita che ha fatto però c'è da dire che la Juve alla fine è riuscita a venire fuori diciamo che bastava il gol il gol è stato trovato da Luco che secondo me ha fatto una gran partita nel primo tempo ha fatto due spunti all'inizio poi appena il Chievo si è chiuso sono sparite ma come un po' sparita diciamo tutta la fase offensiva della Juve ma proprio per merito del Chievo proprio per merito del Chievo nel secondo tempo invece secondo me la Juve è partita è andata molto bene dopo l'1-0 credo che la partita sia di fatto finita lì nel senso che poi sì è arrivato anche il raddoppio di Glion ma soprattutto c'è stato un dominio territoriale evidente col Chievo oggettivamente sulle gambe nel primo tempo il Chievo ha preso due traverse e un palo due in consecutiva e una da fuori con tutti i tiri abbastanza da fuori però ecco tutti i palloni insomma che se fossero entrati avrebbero complicato la partita della Juve benissimo Bacic che non ha dovuto fare tante parate ma quella che ha fatto è stata oggettivamente decisiva nei primi minuti ha fatto un paratone all'incrocio sicuramente fa sempre ben sperare vedere una giocatrice del genere quando gioca dalla tua parte non credo di dare un peggiore in campo perché oggettivamente mi sono piaciute le ragazze come ho interpretato la partita anche con quella calma che le grandi squadre hanno cioè quella di sapere che tanto prima o poi il gol glielo fai la migliore in campo glielo do a Luco perché comunque con un gol il gol dell'1-0 più l'assist praticamente la sua giocata ha portato il 2-0 quindi assolutamente direi che il premio di best player della partita va a lei tutto qua e va bene dunque ragazzi chiudo qua il mio video chievo Verona Valpo 0 Juventus 2 non ho altro da aggiungere arrivederci ai prossimi video ciao